Per fare le gambe prendiamo 8 grammi di pasta per ogni gambina, la condizioniamo e creiamo una pallina, ricordatevi sempre che non ci devono essere crepe in giro, andiamo a formare dopo la pallina un salsicciotto, lo mettiamo sul tavolo, andiamo a premere un pochino per farlo diventare più sottile da un lato e dall'altro lato deve rimanere un pochino più cicciottello, un po' più spesso, con il dito mignolo andiamo a tagliare a un certo punto la gambina sotto, lasciando una piccola parte, mi raccomando piccola perché il piede è piccolo per il piede, il resto della gamba a metà andiamo a fare la stessa cosa, creiamo un solco e poi andiamo a sistemare con le dita la gamba, ammorbidendo le parti dei solchi che abbiamo creato e creando così il polpaccio e la coscietta, le lol hanno le gambe molto corte e quindi non dobbiamo allungarla ma dobbiamo lasciarla piuttosto piccolina, per il piede premiamo sotto con il pollice tirando fuori il tallone, premiamo sotto leggermente, siete sempre delicate nei movimenti e appiattiamo in maniera da avere la gambetta io le scarpe di solito le dipingo, quindi mi facilita il lavoro dipingendo le scarpe e i calzini perché così non vado a crearle con la pasta, essendo porcellana fredda si possono dipingere prendete uno stecco di bambù e andate a infilarlo al centro sopra, al centro della coscia e ruotando, quindi facendo il movimento di rotazione dello stecco andate a infilarlo nella gamba fino a farlo uscire sotto al piedino è ovvio che quando metterete lo stecco la gamba si deformerà un pochino e in quel caso dovete risistemarla arrotondandola di nuovo se si appiattisce fatta la gambina ne facciamo un'altra identica e le mettiamo ad asciugare una volta asciutte si presenteranno come queste la porcellana una volta asciutta prende una colorazione diversa dalla tonalità di quando è umida scurisce di un paio di toni per poter usare le gambe dovremmo tagliare lo stecco a circa 2 cm di altezza dalla gamba stessa così io lo taglio un po' in diagonale perché così mi facilito l'inserimento poi nel corpo prendiamo le gambine e mettiamole da parte adesso dobbiamo creare il corpo il corpo ha lo stesso peso della testa quindi andremo a pesare 23 grammi di pasta identico al peso con cui abbiamo fatto la faccina prendiamo la pasta e la morbidiamo facciamo sempre la famosa pallina e creiamo una specie di pera non so se rendo l'idea una specie di pera una perina una pera piccola sotto deve essere piuttosto spessa e sopra piuttosto sottile prendiamo un ball tool e andiamo a creare due incavi lasciando un po' di spazio tra le due gambine perché giustamente ci deve essere comunque un po' di spazio tra le gambe non possono essere appiccicate dietro cerchiamo di lasciarla un po' sporgente come se ci fosse un sederino prendiamo le gambine mettiamo un po' di vinavil sullo stecco ricordatevi sempre che il vinavil vi rende la creazione più stabile più forte c'è gente che usa l'acqua io uso il vinavil e ne mettiamo un po' anche nell'incavi che abbiamo creato con il ball tool prendiamo le gambine e le inseriamo all'interno del corpo facendo attenzione a tenerlo dritto quindi non storte ma deve essere in linea dritta con il corpo l'abbiamo infilato al centro dei buchini fatti con il ball tool e premiamo un po' la pasta sul contorno delle gambe ci aiutiamo con uno strumento per far aderire la pasta alle gambe ripeto fate in modo che sia in linea dritta con il corpo andate a stringere un pochino in vita e tirate su un pochino il culetto in questo modo ora inseriremo la testa metto due stuzzicadenti per rendere più stabile poi il corpo una volta asciutto oppure potete mettere uno stecco di bambù metto un bel po' di colla sugli stuzzicadenti e anche alla base della testa in maniera che debba incollarsi il corpo alla testolina e vado ad inserire gli stuzzicadenti sul collo vado piano piano giù e vado a modellare la pasta sotto al collo per farla aderire per bene se serve mi aiuto con uno strumento morbido la colla la colla anche se si vede da bagnata diventa poi trasparente una volta asciutta ecco qua fate in modo che sia perfettamente allineato testa corpo gambe e mettete ad asciugare per 24 ore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.